Davide, queste sono quelle vittorie che ne valgono veramente dieci? Sì, siamo contentissimi. Dopo il brutto weekend di Padulio abbiamo lasciato giù una partita e oggi riprendersi era importantissimo. Siamo andati sotto e Lorenzo ha fatto un turno incredibile, siamo tornati in partita e l'abbiamo portato a casa. Scott, un 2 su 2, due valide molto importanti, ma soprattutto quella presa che probabilmente valsa la partita. Ma, devo essere sincero, ho sbagliato un movimento di gioco, sono stato fortunato a rimanere concentrato e a far la giocata. L'importante è che abbiamo vinto la partita, sono contentissimo, questo è quello che conta. Pensate alla classifica adesso oppure partita per partita come al solito? Io devo essere sincero, non ho ancora guardato la classifica, dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo vincere le più partite che possiamo e quando sarà il momento di vedere a che punto siamo staremo lì a guardarci. Però adesso noi giochiamo ed è la cosa importante, dobbiamo vincere le più partite possibile e basta, quello è l'unico obiettivo.